Il secondo premio pubblicità progresso e a questo punto vorrei chiamare qui sul palco con me perché mi sento già sola senza di lui, Presidente della Fondazione Pubblicità Progresso, Alberto Contri. Siete pieni di iniziative, quella di quest'anno cosa avete fatto? Zero soldi, tante idee, quindi è quello che facciamo. Tre cose veloci, innanzitutto voglio dire una grande soddisfazione che abbiamo appena avuto, il World Economic Forum che lancerà a Cannes il 21 giugno un sito con tutte le più importanti campagne sociali del mondo, ne ha selezionate due di pubblicità progresso per costituire il benchmark. Queste due campagne sono la campagna di prevenzione per gli incidenti sul lavoro, era supervisor Franco Moretti e Longari Roma in agenzia e la campagna di adesso per la donazione degli organi con Andrea Concato, Roberto Fiamenghi e Matteo Righi e altre 40 persone che hanno collaborato. L'ultima novità, sperando che poi la stampa ci dia un po' di spazio, che ultimamente sono stati un po' avari, abbiamo reclutato fra i testimonial gli eroi dell'editore Bonelli. Abbiamo Dylan Dog, Martin Mister, Tex Willer che presentano la card dell'Aido, tra l'altro abbiamo appena sviluppato una app, voi potete scaricare da doniamo.org questa carta, potete metterci la vostra foto, il vostro nome con delle mani finti, addirittura preparare il vostro profilo da mettere su Facebook, quindi l'abbiamo fatta diventare virale, stiamo ottenendo molte donazioni, quindi è una campagna multimediale di grandissimo successo. Adesso veniamo al punto per cui in realtà stringiamo. Il dunque, il premio. Allora, perché abbiamo voluto dare questo premio? Motivazione. Per evidenziare la grande importanza di eventi per il sociale che non restino tale, abbiamo detto la parola eventi, ma creino una struttura di rapporti con attività continuative, cercando di mettere a fattor comune quanto di meglio viene fatto dall'amministrazione comunale, dall'ASL, dal privato sociale e dal mondo dell'associazionismo e del volontariato. Un modo intelligente per promuovere una reale coesione sociale che ci auguriamo possa essere esteso anche ad altri mesi dell'anno. È il maggio sociale del Comune di Milano, che diamo come premio all'assessore Pierfrancesco Maiorino. Buonasera. Ma in una parola sola, perché vedo che i ritmi giustamente devono essere serrati. Così l'attenzione rimane alta. È giusto. L'idea nostra è quella che in una fase di crisi terribile come questa, difficile come questa, nella quale aumenta la domanda e spesso diminuiscono le risorse, dobbiamo costruire una grande alleanza per aiutare chi ha di meno, chi ha più bisogno. E allora abbiamo messo insieme in questo mese, e lo faremo anche in futuro, diverse iniziative per aiutare chi è senza casa, chi è senza tetto, per sviluppare progetti per le persone con disabilità. Insomma, per far sì che la crisi non la paghino le persone in maggiore difficoltà e anzi per dare l'idea di una mobilitazione permanente. Proprio oggi, giuro che ho finito, ma proprio oggi abbiamo fatto un'iniziativa molto particolare, abbiamo assegnato nove luoghi per associazioni che lavorano nei quartieri della città, e sono luoghi un po' particolari, perché sono beni confiscati alle mafie, e quindi là dove c'erano l'andrangheta e la mafia, anche a Milano, nei prossimi giorni ci saranno un minimarket sociale, un luogo per ragazze in difficoltà, un'esperienza per far sì che la povertà sia contrastata attraverso l'azione del volontariato, quindi nove spazi della criminalità che diventano nove luoghi della legalità organizzata. E questo è un inizio importante, prego, questo è il suo premio. Grazie, intanto c'era lui che si prendeva a gioco di noi, grazie mille, grazie, complimenti ancora, grazie, grazie, grazie.